La Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino dal 15 al 17 marzo ha aperto le sue porte al pubblico e tra i primi visitatori ha ospitato gli studenti delle scuole piemontesi che hanno partecipato alla fase finale del concorso ragazzi in aula. L'iniziativa è stata realizzata in concomitanza con la giornata dell'Unità Nazionale della Costituzione dell'Inno e della Bandiera grazie alla collaborazione tra il Museo Nazionale dell'Esorgimento Italiano e il Consiglio Regionale del Piemonte in occasione della mostra nel solco di Camillo Cavour allestita a Palazzo Lascaris fino all'11 aprile. 200 gli studenti di tutto il Piemonte che hanno aderito all'ultima edizione di ragazzi in aula, il progetto di Open Government che consente a chi frequenta le scuole superiori di fare esperienza dei meccanismi del Consiglio Regionale e di conoscere i processi che portano alla promulgazione delle leggi. 130 gli studenti che hanno preso parte alla visita al Parlamento Subalpino. Questa mattina assieme abbiamo sperimentato cosa vuol dire costruire una legge nel pomeriggio siamo entrati nella storia del nostro paese e nell'impegno di quegli uomini che hanno consentito a noi oggi, da allora, di poter vivere in un paese libero e democratico. Entrare nelle sale del primo Parlamento Subalpino, nella Camera dei Deputati, provoca una grande emozione. Leggere i nomi di quegli uomini che hanno combattuto per l'unificazione del nostro paese provoca una grande emozione. Io mi auguro che i ragazzi abbiano in qualche modo sentito tra stamattina e oggi il senso dello Stato e il valore delle istituzioni. Dopo aver visitato le 15 sale che raccontano e ripercorrono momenti e tappe fondamentali del processo di unificazione nazionale, i ragazzi hanno concluso la loro visita all'interno della Camera dei Deputati. Ci troviamo all'interno della Camera del Parlamento, il primo Parlamento Subalpino. Qui inizialmente era la sala da feste e da cerimonia della famiglia prima Carignano, poi della famiglia Savoia e poi successivamente ha ospitato la Camera del Parlamento Subalpino in seguito alla concessione dello statuto albertino da parte di Carlo Alberto dopo il 4 marzo 1848. L'ultima seduta parlamentare si è svolta il 28 dicembre 1860, come è segnalato appunto nel datario accanto al ritratto di Vittorio Emanuele II. In seguito l'aula parlamentare è stata stabilita all'interno del cortile di Palazzo Carignano, è stato allestito un'aula provvisoria e proprio all'interno di quest'aula provvisoria è stata proclamata l'Unità d'Italia, 17 marzo 1861.